Sono Cristiano Traferri, ho la doppia veste sia di amministratore della CX Service SRL, che è la società che ha direttamente organizzato l'evento, e direttore commerciale di Euromet. Abbiamo avuto dei feedback molto positivi, la redemption dei visitatori è stata buona, molto buona, considerate anche i tempi, e l'interesse è stato attivamente partecipe, soprattutto per quello che riguarda le tematiche che bene o male interessano trasversalmente a tutti gli espositori. Per quello che riguarda il futuro, l'obiettivo è quello sicuramente di ripetere quantomeno un evento del genere, e abbiamo questo sogno di fare nel medio periodo, è un sogno però ci stiamo lavorando, un evento prettamente espositivo, con poi anche dei dibattiti all'interno dell'evento, però che contenga il recipiente, la cosiddetta fiera. L'obiettivo ovviamente è Expo 2015, perché si esposerebbe benissimo con quello che è tutto l'environment che ci sarà nel 2015. Mentre adesso metto il cappello di direttore commerciale Euromet, abbiamo avuto un'affluenza molto qualificata, abbiamo avuto anche dei nuovi contatti molto interessanti, anche internazionali, di grossi players che sono venuti qua, anche clienti italiani che molti dicono, ormai in Italia ci conosciamo tutti, non è vero. Non è vero perché c'è sempre il nuovo player, c'è sempre anche il vecchio player che magari adesso si è buttato nel video prima faceva solo l'audio o viceversa, quindi c'è un divenire, un cambio di peeling dell'identity kit sia del prospect che del cliente acquisito anche.